Porto Marghera all'altra Venezia. È questo il tema su cui verterà il workshop estivo dello Uav, l'Università di Architettura di Venezia. In occasione dei suoi 12 anni, il workshop estivo, da sempre esperienza unica in Italia apprezzata all'estero, avrà quest'anno una veste particolarmente internazionale, che vedrà la partecipazione di professori provenienti da varie parti del mondo ed il convolgimento di 1800 studenti. Dimensioni vuol dire 30 docenti per metà provenienti da 13 nazioni differenti, altrettanti dall'Italia, e un totale di 1800 studenti più un altro centinaio di studenti stranieri, il che vuol dire una massa enorme di persone che lavora contemporaneamente. Da qui parte il progetto ed è l'idea che degli docenti di differenti culture, perché le 13 nazioni vanno dal Sudafrica al Brasile, alla Cina, a molti paesi del Sudamerica, alla Norvegia, eccetera, eccetera. Quindi culture molto differenti, la Germania con esperienze anche di progetto molto differenti e che tutto questo possa essere trasmesso agli studenti in un tempo concentrato. Le tre settimane di progettazione, che si concluderanno con una mostra di lavori, i migliori saranno premiati da una giuria internazionale, avranno come tema il futuro di Marghera. In particolare il tema di Porto Marghera, che è una parte della città di Venezia assolutamente trascurata, diciamo figlia di un Dio minore, nonostante sia una parte necessaria per questa città, proprio perché è stata la parte produttiva di questa città, la parte industriale, la parte del porto delle merci, quindi una parte del cuore pulsante, del cuore operaio della città. Ovviamente nel corso delle trasformazioni industriali quest'area è stata oggetta di molte dismissioni ed è oggetto di trasformazioni che sono trasformazioni in corso, ma che in fondo non sono ancora state pensate con un'idea generale. La particolarità, la difficoltà e l'interesse di lavorare su Porto Marghera è che la parte industriale non è totalmente dismessa, anzi va potenziata. La parte terziaria è in corso di trasformazione, la parte residenziale è una grandissima potenzialità ed è ancora minoritaria. Anche gli studenti sono entusiasti di questa opportunità. I workshop sono sicuramente un'ottima opportunità per conoscere professori e architetti provenienti da tutte le parti del mondo e avere con loro un'esperienza progettuale diversa da quella che di solito si avrebbe nel normale corso degli studi universitari. L'area di Marghera, che rappresenta un po' il futuro di Venezia, la nuova espansione di nuovo nell'entroterra, dove si progetterà al posto delle aree di smesse industriali di Marghera, che è un tema centrale dell'ambito veneziano. È un modo per allacciare rapporti con professionisti provenienti da tutto il mondo, anche da realtà molto diverse dalla nostra e anche con ragazzi che vengono a Venezia proprio per questa opportunità.